Questi occhi scuri... Castani? Ecco sì, castani. Questi suoi occhi castani. Queste sue mani lunghe. Affusolate. Giusto, affusolate. Queste mani affusolate. Questi occhi castani. Questo suo... Questo suo incedere... Portamento. Questo suo incedere da portamento. Ma cosa dice? E me l'ha detto lei. Capito, ma trovavo il più giusto portamento. Ripeta. Il suo portamento da regina. Il suo portamento da regina, sì. Le semmarie affusolate. Gli occhi castani. E le sue gambe. Mi perdoni, ma glielo ho guardato prima quando sei alzata a telefonare. Le gambe bellissime. Svanciate. Svanciate. Le gambe svanciate. Il portamento da regina. Le mani affusolate. Gli occhi castani. I capelli... Nocciola naturale. Naturale. Nocciola. No, naturale non tinti. Naturale. Nocciola non tinti. Vedi? I miei capelli non sono tinti. Lo vedi? Lo vedi? Lo vedi anche le sopracciglia? Lo vedi? Non tinti. Le sopracciglia? E... 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 Non so che dire sulle sopracciglia. Che lascia stare? Solamente un dettaglio. Un tocco. Poi? Allora, mi lasci ricapitolare. Le sue gambe franciate. E il suo portamento da regina. Le sue mani affusolate. Gli occhi castani. E il suo tocco di sopracciglia. I suoi capelli nocciola. E... 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 Poi? E poi il suo culo. Mi dispiace? Ma non si dispiace, imbecile. Cosa da dire? Cosa da dire? Che bello. Che bello. Che volante l'altra cosa sono le sciocchezze. Ma il suo... Mi perdoni. Le... È eccezionale. A me quando mai mi è capitato. Quando mai? Mai capisce cosa significhi mai? E poi? Attenzione, prego. I signori passeggeri del volo D.A. 349 per Bologna sono pregate di recasa all'uscita numero 4 per imbarco immediato. Grazie. Attenzione, please. We kindly ask all the passengers on the flight D.A. 349 to Bologna to proceed to gate number 4 for immediate boarding. Thank you. Grazie. Non c'è di che.